In questo numero, Covid-19 e 10 milioni di mascherine distribuite gratis ai toscani dopo la consegna effettuata dai comuni, le mascherine diventeranno obbligatorie nei luoghi pubblici. E crolla il viadotto di Albiano, Rossi commissario per la ricostruzione. Si tratta di una infrastruttura strategica per i collegamenti fra la Toscana e la Liguria. L'Università di Firenze produce gratis il reagente per processare i tamponi per diagnosticare la positività al coronavirus. Covid-19, la Regione rilancia il 15-22 per le donne vittime di violenza. Potenziata anche la rete di ascolto telefonico, una app per denunciare insicurezza. Autorità portuale regionale, via libera al piano 2020, stanziati quasi 2 milioni di euro per i porti di Viareggio, Porto Santo Stefano e Isola del Giglio. La Regione Toscana ha distribuito ai comuni toscani un primo contingente di quasi 9 milioni di mascherine protettive, fatte arrivare dalla Cina per mettere in campo una nuova misura di prevenzione primaria contro l'epidemia di coronavirus. Nelle immagini vedete il Presidente della Regione Enrico Rossi che ispeziona il carico atterrato all'aeroporto di Pisa e poi stoccato a Calenzano nei magazzini della protezione civile della città metropolitana. Le distribuiremo alle protezioni civili provinciali, da questi poi ai sindaci, ai comuni, mi sono sentito con il Sindaco Biffoni, Presidente del Lanci e anche con altri sindaci. E queste poi provvederanno a distribuirle casa per casa, evitando che ci siano assembramenti e poi mi comunicheranno i sindaci l'avvenuta distribuzione. A quel punto entrerà in vigore l'obbligo di indossare sempre la mascherina quando si esce di casa. Noi vogliamo che si evitino fenomeni speculativi come quelli che abbiamo visto. La mascherina è davvero un bene primario, insomma. È uno strumento di protezione, noi ci siamo impegnati molto fin dall'inizio a produrla anche in Toscana. Ne abbiamo ordinati altri 20 milioni in Cina perché pensiamo che non debba essere uno spot, ma un'iniziativa di prevenzione primaria che rivolgiamo a tutte le famiglie, a tutte le persone. La Ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli ha nominato il Presidente della Regione Enrico Rossi commissario per la ricostruzione del viadotto di Albiano, una frazione di Aulla in Lunigiana, crollato improvvisamente l'8 aprile scorso. Questo gigantesco cumulo di rovine che vedete nell'immagine è quel che rimane del ponte situato lungo la statale 330, che collega la Toscana alla Liguria. La struttura, lunga 258 metri, ricostruita in calcestruzzo nel secondo dopoguerra, è completamente collassata nel letto del fiume Magra e solo il caso ha evitato un'altra strage come quella del ponte Morandi di Genova. In quel momento, anche a causa dell'emergenza coronavirus, sul viadotto stavano transitando solo un furgone e un'auto e nessuno dei due conducenti è rimasto gravemente ferito, a parte lo shock. L'ANAS è competente in via esclusiva su quel tratto di viabilità dal febbraio 2018 e il sindaco Roberto Balettini aveva segnalato crepe e fessurazioni fin dall'agosto di quell'anno con lettere e telefonate, ricevendo dall'ANAS rassicurazioni sulla stabilità del viadotto e sul fatto che non fosse necessario assumere provvedimenti per limitare il traffico. In attesa che vengano chiarite le cause del crollo, il neocommissario Enrico Rossi ha chiesto al governo Conte di dichiarare l'emergenza nazionale un incontro con i vertici del genio civile e dell'ANAS per procedere il più velocemente possibile alla ricostruzione di questa infrastruttura strategica per i collegamenti fra Liguria e Toscana. Nel corso dell'emergenza coronavirus i laboratori del servizio sanitario regionale hanno dovuto fronteggiare anche la carenza di un reagente indispensabile per analizzare i tamponi per la diagnosi del Covid-19, un prodotto di difficile riapprovvigionamento vista l'alta richiesta su tutto il territorio nazionale. L'azienda ospedaliere universitaria di Careggi ha chiesto aiuto all'Università di Firenze e la risposta è arrivata. Alcuni docenti universitari hanno individuato la formulazione del reagente e sulla base delle loro indicazioni i tecnici dell'Ateneo ne hanno già prodotto 6 litri, sufficienti per analizzare 6.000 tamponi. Il tutto gratuitamente. Le restrizioni imposte dall'epidemia di coronavirus possono contribuire ad aumentare gli episodi di violenza domestica. La Regione Toscana, nel rispetto delle restrizioni per contenere la diffusione del virus, ha quindi deciso di garantire la continuità del servizio dei centri antiviolenza, potenziando la rete di ascolto telefonico e rilanciando la campagna per la diffusione del numero antiviolenza 1522. I centri antiviolenza hanno gli sportelli chiusi, è vero, ma hanno intensificato altre forme di comunicazione. Potete chiamare al telefono, ci sono tanti numeri di cellulare. Potete mandare un messaggio Whatsapp o anche Facebook. E ugualmente anche all'1522. L'1522 è sempre attivo, ha addirittura realizzato una app e attraverso la app è possibile chattare con le operatrici. Allora, il nostro invito è quello di non rimanere in silenzio. Se si è vittima di violenza, chiamare, scrivere, perché la rete di protezione è sempre attiva. Le donne possono quindi scaricare gratuitamente la app gratuita del 1522 sul proprio telefono, cellulare e chattare senza che nessuno le ascolti con le operatrici del servizio. Prevede quasi 2 milioni di euro di investimenti il piano delle attività per il 2020 dell'autorità portuale regionale. Il piano comprende gli investimenti e le spese correnti previsti per la gestione dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio e Marina di Campo. Per il porto di Viareggio, la struttura più grande, è previsto oltre un milione e mezzo di euro di investimenti per l'escavo dell'imboccatura e il completamento della nuova banchina commerciale. Mentre per Porto Santo Stefano sono stati stanziati 100 mila euro e 156 mila per il porto dell'Isola del Giglio. In questo modo noi confermiamo una forte attenzione, un forte impegno, perché i nostri porti, assieme a quelli di interesse nazionale, sono ovviamente una fonte di ricchezza, una fonte di lavoro e di sviluppo alla quale cerchiamo di dedicare la massima attenzione. Il porto di Marina di Campo aveva già ricevuto 600 mila euro nel 2019 per interventi attualmente in corso. Grazie a tutti.